Oggi abbiamo chiuso un consiglio di amministrazione importante perché abbiamo fatto partire la fase di autoproduzione di energia elettrica di ACUP. Quindi abbiamo varato i nuovi impianti di depurazione che producono energia dal biogas. 17 impianti di depurazione si trasformano per autoprodurre biogas e quindi energia elettrica e rendersi autonomi rispetto al prelievo della rete. E' una cosa molto importante, rientra nel nostro piano strategico e ci consente di avviarci verso la sostenibilità che abbiamo auspicato e continuiamo a auspicare dappertutto.